La promessa ci viene incontro la famiglia, che lei è il sindaco di tutta Roma, di tutti i cittadini. Che reddito rende? Io le ho detto guadagno mille euro perché faccio il dottorato e siamo con un'oregna. E allora lei è esente comunque? Eh ma ci deve incoraggiare a mettere al mondo i figli, no? Certo, assolutamente sì. Però per gli altri figli era aumentato comunque. Io spero anche che aumenti il vostro reddito, no? E lo spero pure io perché ho fatto il terzo figlio proprio con la speranza di essere un po' più ricco, visto che lei ha detto che a Roma i terzi figli c'erano solo di ricchi. No, questo non l'ho mai detto. Ma comunque penso che lei condividerà che chi guadagna 150 mila euro... Io condivido che il terzo figlio, o comunque i figli in generale, sono il motore della società. E quindi anche chi guadagna 150 mila euro... No, che bisogna aiutare soprattutto le famiglie che hanno già un figlio, poi chi ne ha due, chi ne ha tre. Chi guadagna 150 mila euro deve avere lo stesso privilegio di chi guadagna 10 mila. Ma chi le mandirà le pensioni di mio padre e la sua, se in questa società non ci sono figli, se abbiamo la messa e il tasso di modalità più basso del loro. Chi guadagna 150 mila euro deve pagare esattamente lo stesso... No, però un minimo di riconoscimento perché ha fatto comunque un servizio alla società. Che aiuta la società. Io credo più in una distribuzione... Certo, ma infatti ci sarà poi una gradualità. Allora, è esattamente quello che volevo io, la gradualità. Ma basta una famiglia monorata e tu arrivi a 11 mila, 12 mila. Cioè 10 mila è pochissimo. Ma infatti sotto i 15 mila... No, era sotto i 10 mila. Era solo i 10 mila. Comunque 10 mila euro di 6 è pochissimo, con tre figli le spese sono tante. E anche con due, anche con due figli. Comunque il principio era la proporzionalità, quella stessa cosa che... Comunque io penso che se guadagni 150 mila euro, di 6 ce n'è molto più di 10 mila. Forse arrivi anche a 30-40 mila di 6. E quindi io... Quindi siamo lontanissimi dalla fascia che ha messo lei su 10 mila euro. Siamo d'accordo che chi guadagna molto di più deve pagare... Ma c'è una bella fascia tra 150 mila e 10 mila che ha messo con il fascio. Ma infatti era 10 mila e 100 che va a pagare il nero. Era graduale. Siamo d'accordo che chi guadagna molto di più deve pagare il nero. Siamo d'accordo che chi guadagna molto di più deve pagare il nero.